A presto Ma ti non hai detto qualcosa? Ecco, poi ci voglio stare qui Azz ! Se non è così, non è più bello Che, mia cucina è morta? No! Io con lei ci appiccia tutto cosa Il numero! S'ha fottuto i soldi! Vabbè, non metto i soldi. Andrete a calmarlo. Tu puoi dimmi solo lui. Angiola, buona notizia! E voi che ci faccio, voi non ci appartiene più. Che ti faccio la compagnia mia? Io non so niente. Allora che decisi fa? Questa con me o questa qui? Da quello che ho capito, non sequestro di persone. Ok, dovremmo prelevare i file per acquisire le immagini. Mari, dillo a tuo padre, prima che sia troppo tardi. Aspetta, stai venendo. Che lui tiene i soldi, mio padre è il capo a piazza. Invece a me, papà, se c'è le quattro noti, non ho capito qua nella casa. E tu? Che cazzo stai guardando tu l'ho? Stai guardando? Ma che la vanno sempre andando a cercare tu? Mi si cagli su? In Sicilia ci sono tante picciotte maniati. Tu ti dà aver ragione. Io devo sfamare un'intera palena. Pura mia. Non andavo fortunato. Non andavo, stiamo con voi! Ma il padre è il boss. Non voglio creare problemi. Il vero boss sta nei cieli. Mamma, quei signori erano cattivi, vero? Ho sentito urlare? E' un dettaglio, a me è merito! Puh! Don Antonio, ci siamo rispettati. A voi no! Solissimo per comandare. Mi raccomando! A voi no! Aiuto! Lasciatemi stare! Ma la sentiamo! 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 Grazie a tutti